In realtà l'investimento era minimo, erano soltanto 300 mila euro che io non intendevo perdere, come non ho mai perso nelle mie operazioni finanziarie, per cui ho detto se voi non mi volete in giro, quindi se non mi volete che guardo cosa c'è all'interno, visto che ho già visto, ho già guardato, ho già scritto, ho già denunciato, mi date i miei 300 mila euro, io scompaio e me ne vado, c'è anche una parte la quale dice come sono arrivato dalle tenebre, poi l'ascolteremo perché ci sono altri audio. Perfetto, quindi io dico me ne vado e ci salutiamo qui, arrivederci e grazie. Se invece volete fare una cosa seria, io ho a disposizione 100 milioni, li metto all'interno della società, ma creo una struttura internazionale, cambiamo completamente tutto quello che c'è da cambiare, organizziamo, io sono presente con il mio gruppo in 25 paesi del mondo, quindi avevo intenzione di pubblicare in 25 lingue diverse la nostra organizzazione, ho proposto una serie di cose, non è vero che non sono state presenti, questa è una delle opportunità. Se poi invece non vi interessa una società quotata perché non sapete che farne, perché era evidente che non sapessero che farne, perché non sapevano gestire una società quotata in borsa, la lasciate a me, io so come recuperare i soldi, lo so ancora oggi, cioè se in questo momento domani mattina mi dicessero mettiti a capo della visibilia e risolvi tutti i problemi finanziari, io so come fare, molto semplice.